Loro sono Calogero Condello, 54 anni, e Maria Brancato, 47, marito e moglie, e da oggi Bonnie e Clyde in salsa palmese. I due ieri sera hanno dato vita ad un'azione degna della coppia americana. A bordo di una Fiat di Punto affiancavano prima e sbarravano dopo la strada ad una Hyundai Gats, sulla quale viaggiava un tranquillo pensionato di 69 anni di Palma di Montechiaro. Una volta bloccata l'auto, dalla Fiat scendevano la donna con addosso una vistosa parrucca di colore biondo, occhiali ben calati, e l'uomo a volto coperto è armato di pistola. La donna, afferrata il pensionato, lo costringeva a scendere dall'auto facendolo precipitare a terra. Avvicinatosi anche l'uomo, sotto la costante minaccia di una pistola che bestrigeva tra le mani, infieriva sul malcapitato pensionato prendendolo a calci. Pochi istanti dopo i due si allontanavano con la donna alla guida dell'auto rubata. La vittima, dopo i primi attimi di smarrimento, si rialzava e si adoperava per allarmare le forze dell'ordine. Subito venivano diramate le ricerche della coppia e più pattuglie della polizia di Stato si mettevano sulla loro ricerca, che si concludeva nel migliore dei modi. La prima ad essere rintracciata era la donna nei pressi del cimitero di Camastra, la quale veniva trovata in possesso dell'auto del pensionato, della parrucca, che aveva indossato sino a pochi minuti prima. Sulla stessa auto veniva rivenuto anche un caricatore privo di munizioni. Stessa sorte toccava all'uomo rintracciato in una stradina di Palma di Montechiaro ancora la guida della Fiat di Punto, con la quale aveva perfettato la rapina. Incalzato dagli agenti del commissariato, faceva poi rinvenire anche l'arma, con la quale aveva minacciato il pensionato, ben nascosta sotto alcuni massi, in un appezzamento di terreno incolto nei pressi del campo sportivo di Camastra. L'arma risultava essere una pistola da guerra, perfettamente funzionante, di provenienza estera, alla quale era stata eliminata la matricola per renderla irriconoscibile. Marito e moglie sono stati rinchiusi nel carcere di Agrigento a disposizione del PM Matteo Delpini. Condello deve rispondere di concorso di rapina aggravata a porte e detenzione di arma da guerra clandestina, perché con matricola brasa, mentre la donna si sarebbe resa responsabile di concorso in rapina aggravata.